Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Buongiorno, sono Bruno Mellano e sono qui in rappresentanza della Free Tibet Onlus Italia, che è un'associazione non governativa a fine di beneficenza, che è stata attivata ormai da quattro anni, nel 2015, in provincia di Cuneo, attiva sul Piemonte ma con contatti internazionali, a vantaggio della causa tibetana, della questione del Tibet libero, Free Tibet appunto. È una Onlus registrata ufficialmente, che ha come obiettivo quello di fare informazione e sensibilizzazione sulla causa del Tibet e dei tibetani, l'unico popolo che nel tragico Novecento ha reagito ad un'invasione criminale e militare della Repubblica Popolare di Cina con la non violenza e con una rivolta, volta a costruire le basi per salvare la cultura, la religione, il patrimonio ambientale e storico del Tibet. E accanto a questa iniziativa di sensibilizzazione e di informazione, la Onlus si è posta l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere concretamente gli esuli tibetani. Dal 10 marzo del 59, ormai 60 anni, i tibetani sono in gran parte esuli dal loro paese, sono fuggiti soprattutto in India, ma anche in Nepal, in Bhutan, in America, in Canada, in Europa, al seguito del Dalai Lama, Tenzinghiazzo, il 14esimo Dalai Lama del Tibet, premio Nobel per la pace, che ha più volte chiesto di poter interloquire con la Repubblica Popolare di Cina per conquistare autonomia e non indipendenza, autonomia culturale e organizzativa per i tibetani, per permettere di salvaguardare un patrimonio che è unico, unico nel mondo, unico nella storia, che ci coinvolge direttamente la non violenza, il buddismo tibetano, l'ambiente dell'altopiano dell'Himalaya, da cui nascono i principali fiumi di tutto il continente asiatico e indonesiano. Noi siamo qui, la ONLUS ha chiesto a me di fare questo intervento, perché appunto il 2019 è un anno importante di ricordo, di iniziativa, di battaglia in sede ONU e in sede europea per ricordare a tutti, a cominciare dai cinesi, che il Dalai Lama, questo Dalai Lama, che ormai ha 85 anni, è una risorsa per la pace, è una risorsa per il mondo e dobbiamo aiutarlo a conquistare quella autonomia e quella organizzazione che permetta ai tibetani esuli di sopravvivere nella loro cultura e permetta soprattutto ai tibetani costretti nella confine che è diventato un carcere del Tibet storico sotto il controllo militare ferreo della Repubblica Popolare. Repubblica Popolare che in questi anni si è caratterizzata con un controllo assolutamente militare di tutte le minoranze, di tutte le diversità che possono incrinare una compattezza di regime. La ONLUS, che ripeto ha sede in Piemonte, è attiva a livello internazionale con contatti diretti con il governo tibetano in esilio, che ha sede a Dharamsala in India e da anni finanzia direttamente piccoli ma concreti progetti di recupero e di sostegno per gli esuli tibetani, in particolare in questo momento nella DAC, il piccolo Tibet che è una parte dell'India, quindi un territorio tibetano libero e democratico ma ha sostenuto progetti negli anni scorsi in varie altre parti dell'India dove sono presenti monaci ma anche laici che nelle scuole volute dal Dalai Lama hanno conservato la loro cultura, hanno salvato il proprio patrimonio, hanno salvato le radici sostanziali della cultura tibetana. Lo stesso Marco Polo, nelle sue viaggi famosi, aveva incontrato il Tibet e aveva testimonianza dell'esistenza di un Tibet libero e autonomo. Nel 2019 dobbiamo conquistare a 60 anni da quella conquista militare cinese un spazio di libertà e di democrazia per il Tibet oggi. Se siete a Torino e vi capita di passare per Corso Stati Uniti venendo da Porta Nuova troverete alla vostra sinistra, angolo Corso Galileo Ferraris, un bellissimo palazzo che sei notte è spesso illuminato di mille luci, molto suggestivo. È Palazzo Ceriana Maineri di cui vi racconterò una breve storia. Ma prima vi presento accanto a me lo Stefano Motta che è vicepresidente del circolo della stampa Sporting con delega al tennis. Grazie Alessandra. Grazie a Stefano. Eravamo a Palazzo Ceriana Maineri che fu costruito fino a 800 dall'architetto Ceppi. È la casa dei giornalisti ed è la sede del circolo della stampa Sporting. Casa dei giornalisti perché è il centro della categoria, cioè il circolo della stampa Sporting, come abbiamo detto, sede dell'Ordine dei giornalisti, dell'Associazione Stampa Subalpina, del centro studi Pestelli. E quindi già questo lo rende un polo molto importante per la città. Il palazzo ottocentesco, carico di stucche e ori, molto suggestivo, anche molto bello da visitare, è adesso anche sede, oltre che circolo della stampa Sporting, di attività culturali della città. Di attività culturali e sociali. Per esempio il Cardinal Nosiglia vi ha incontrato i cittadini, hanno incontrato i loro cittadini, i concittadini prima delle elezioni, i candidati sindaco Appendino e Fassino. Si organizzano festival, come il recente della criminologia, si organizzano presentazioni di libri, presentazioni di rassegne, avvenimenti internazionali e nazionali importanti, ma soprattutto c'è la grande suggestione delle belle sale, delle belle sale di rappresentanza che una dietro l'altra si inseguono. Vi voglio solo dire che il palazzo, che il circolo della stampa, fu fondato nel 1957 da Giovanni Giovannini, Gaetano Massara e Riccardo Giordano, a nome allora dell'associazione stampa subalpina. E pensate, e poi passo la parola a Stefano, che già allora uno dei motivi per i quali era stato costituito il circolo era il sereno ritempramento delle fatiche dei cittadini per promuovere e organizzare senza scopo di lucro esposizioni di quadri, sfilate di moda, mostre, presentazione di nuovi libri. E adesso passo volentieri la parola a Stefano Motta, che come dicevamo è vicepresidente dello Sporting, si occupa del tennis e ha perché il circolo della stampa dal 1965 ebbe la sua sede estiva, essendo considerato lui, circolo della stampa Palazzo Ceriana Maineri, la gloriosa e calda e piena di boiserie e belle tappezzerie, sede invernale. Vai Stefano. Grazie Alessandra. Allora, cercherò in due minuti di illustrare una delle più belle strutture sportive d'Italia, il circolo della stampa Sporting, che ha la sede sportiva, la sede estiva, in corso Giovanni Agnelli 45, è uno dei più bei circoli sportivi d'Italia. Abbiamo 23 campi da tennis, di cui 11 coperti, quindi permettono a tutti i soci di fare attività praticamente tutto l'anno. Abbiamo un campo da calcio a 8, ristrutturato l'anno scorso, un nuovo campo da calcetto, abbiamo una piscina che è impressionante per dimensioni, un lago all'interno della città, una palestra eccezionale, un ristorante, abbiamo la possibilità di fare un campo da palacanestro, da pallavolo, insomma tutte le attività sportive che permettono a tante famiglie di trascorrere giornate piacevoli, di avere i figli in un posto sicuro. Abbiamo una scuola tennis eccezionale, abbiamo una delle più importanti scuole tennis d'Italia, abbiamo 330 allievi seguiti giornalmente, lo Sporting ha ospitato le più importanti manifestazioni tennistiche italiane, ha giocato la Coppa Davis, ha giocato tonnelli internazionali e speriamo di ospitare a breve le ATP internazionali del Master in programma nei prossimi anni. Ma tuo padre pure, se non ricordo male. Vero, mio padre ha giocato l'Internazionali d'Italia nel 61 e quindi ho un'importante responsabilità. E' un grande polmone verde nel cuore della città. Andateci, ciao! L'associazione di volontariato sportivo Primo Nebbiolo nasce ormai più di dieci anni fa all'interno della struttura del Custorino. Siamo un gruppo di circa 250 volontari che vanno da tutte le età, dai 18 agli oltre 80 anni, tutti uniti dalle stesse passioni che sono lo sport e il volontariato. Siamo operativi ormai appunto da dieci anni in tutti gli eventi che organizza direttamente il Custorino e su tutti gli altri eventi sia a carattere nazionale che internazionale. Ci occupiamo principalmente di eventi sportivi ma abbiamo anche fatto numerosi convegni scientifici in collaborazione sia con l'Università degli Studi di Torino che col Politecnico. Il nostro scopo è quello di aiutare, di dare supporto all'organizzazione di questi eventi e di cercare di essere il più possibile cortesi e simpatici anche con gli ospiti o gli atleti che vengono appunto nella città di Torino per questi eventi. All'interno del nostro gruppo ci sono studenti universitari, ci sono persone che lavorano e ci sono dei pensionati che prestano il loro tempo per la nostra associazione e per darci una mano per il buon svolcimento di tutte le nostre attività. Negli ultimi dieci anni, oltre 50 eventi all'anno, ci hanno visto coinvolti in tutti i settori che possono essere quello della logistica, quello del supporto alla sicurezza o quello del trasporto delle persone in giro per la città o nelle varie sede di gara o di evento stesso. Con noi ci sono molti volontari che hanno partecipato prima a battuta alle Olimpiadi di Torino 2006 e subito dopo nel 2007 alle Università di, che sono state per noi il punto decisivo per la creazione dell'associazione che nel corso degli anni si è sviluppata da pochi volontari fino ad arrivare a numeri importanti oltre i 200 come in questi anni. Siamo sempre molto presenti all'interno del Custorino e in questi ultimi quattro anni abbiamo dato sempre grande supporto alla manifestazione dell'8 marzo per la donna Just the Woman I am che è diventato per noi un po' il nostro fiore all'occhiello. Allora, io sono un volontario da ormai più di 12 anni, ho iniziato ovviamente, come tutti penso, per la città di Torino nel 2006 come volontario, terminate ovviamente questa manifestazione molto importante per la nostra città, mi sono guardato un attimino intorno e ho visto che praticamente in seno al Custorino c'era questa associazione che offriva ovviamente la possibilità di continuare come volontariato. Oltretutto ho trovato all'interno ovviamente dell'associazione ho trovato degli amici con i quali condividiamo tutti i giorni ovviamente questi eventi che veniamo chiamati ovviamente per far sì che l'evento sia fra i migliori così un po' anche sulla scorta delle Olimpiadi 2006 di Torino. Ho trovato anche una famiglia in più ovviamente in seno al Custorino io abbiamo direi quasi tutti la possibilità di usufruire degli impianti stessi io tra l'altro appunto svolgo delle attività tipo sci eccetera eccetera e quindi mi trovo praticamente con una famiglia e quindi sono veramente orgoglioso di far parte di questa associazione come dicevo che ormai fa parte direi del mio quotidiano. Quindi io mi auguro e spero di poter continuare in questa partecipazione con l'associazione che mi ha accolto direi a braccia aperte così come tutti i giorni noi accogliamo anche dei nuovi iscritti laddove sono intenzionati a partecipare come diceva appunto qui Fabio il nostro consigliere non nelle attività che vengono svolte insieme all'associazione. Il reclutamento e la ricerca dei volontari è aperto durante tutto l'anno potete trovare tutti i riferimenti e la descrizione dell'associazione sul nostro sito internet che è www.associazioneprimonebiolo.org dove potete trovare la nostra storia, i nostri contatti e i numeri da chiamarci. Vi aspettiamo numerosi, gli eventi sono tanti e abbiamo bisogno di tutta la collaborazione che potete darci. Grazie. Un recente sondaggio del portale scuola.net intervistando 11.000 giovani italiani ha stimato che un adolescente su cinque ammette di aver usato violenza nei confronti della propria partner fidanzata. Sempre all'interno dello stesso sondaggio è emerso che addirittura il 45% degli adolescenti ritiene che le violenze all'interno di un rapporto siano un fatto privato e come tale rispetto al quale il resto della società non dovrebbe interessarsi. E infine un'altra percentuale significativa è che più del 30% delle ragazze ritiene di perdonare i gesti di violenza più o meno articolata e di diversa intensità subita all'interno del rapporto. Questi sono numeri che fanno sicuramente riflettere e che ci stimolano significativamente a intraprendere una strada che come Consiglio regionale del Piemonte avevamo già deciso di intraprendere all'incirca un anno fa quando il progetto dell'educazione sentimentale nelle scuole piemontesi è partito in una circostanza che era la celebrazione di una giornata contro la violenza sulle donne. L'idea iniziale era stata quella appunto di considerare il fenomeno della violenza non solamente nel momento della denuncia dovuta ma in un'ottica che fosse il più possibilmente preventiva provando cioè a portare all'interno di quello che è il contesto delle scuole seppure ovviamente non avendo in questo momento né la possibilità né l'ambizione di istituire un vero e proprio corso didattico ma a portare dicevo appunto all'interno delle scuole una testimonianza che fosse un aiuto all'ascolto e al dialogo per cercare di dare agli studenti piemontesi degli strumenti per capire il principio del rispetto dell'alterità all'interno di una coppia in primis visto appunto qual è stata la genesi del progetto ma poi al di là anche di questo singolo contesto per abbracciare tutte quelle che sono ovviamente le occasioni i contesti di socialità, di socializzazione quindi all'interno ovviamente anche di rapporti di amicizia o comunque complessivamente tutti gli ambiti ripeto della socialità insegnare al rispetto dell'altro insegnare al rispetto dell'alterità cercare di far comprendere che all'interno di una relazione qualunque essa sia sia sempre quantomeno in due e che quindi è necessario mettersi nei panni dell'altro provare a capire e provare a comprendere le dinamiche che riguardano l'altra persona ovviamente a maggior ragione in un rapporto sentimentale e secondo noi a maggior ragione a partire dai giovani rispetto ai quali questo tipo di esperimento ci sembra assolutamente opportuno alla luce del fatto che questo tipo di dinamiche questo tipo di situazioni purtroppo hanno a manifestarsi molto frequentemente anche nel mondo degli adulti ecco quindi partire e provare a dare una testimonianza sì di civiltà ma anche una testimonianza noi crediamo almeno questo è stato il principio ispiratore di questo progetto che tra l'anno scolastico 2018-2019 arriverà a toccare centinaia di studenti delle scuole secondarie dell'ultimo anno delle scuole secondarie piemontesi ecco appunto cercare di dare un messaggio di civiltà ma soprattutto provare a concorrere noi insieme alla scuola ad un progetto che possa liberare una cultura del confronto energie all'interno di una cultura del confronto che molto spesso manca alla nostra società in modo assai più ampio e articolato e quindi con questo spirito la consulta giovani del Consiglio regionale del Piemonte ha intrapreso questa strada con la speranza che quanto prima si possa passare da quello che è attualmente un progetto pilota a qualcosa che possa articolarsi ancora più profondamente all'interno di quelli che sono appunto i percorsi didattici noi ci auguriamo anche con il concorso in questo caso del MIUR Buongiorno sono Dario Bonsignorio di Uni l'ente italiano di normazione sono qui con Doriana Cozza della divisione innovazione per parlare di un tema importante e anche piuttosto attuale il bullismo prima però spieghiamo chi è l'Uni e di che cosa si occupa Uni è un'associazione privata senza scopo di lucro che si occupa da quasi cent'anni di elaborare documenti tecnici di applicazione volontaria le norme tecniche e le prassi di riferimento circa 6.000 esperti ogni anno si incontrano per mettere a fattore comune la propria conoscenza e condensarla in documenti che spiegano come fare bene le cose con più qualità con più sicurezza e più rispetto per l'ambiente questi documenti verranno poi utilizzati dalle imprese per offrire prodotti e servizi migliori e dai consumatori per effettuare scelte d'acquisto più adeguate oggi in particolare parleremo di prassi di riferimento che sono documenti che grazie ad un iter più veloce rispondono a delle particolari esigenze innovative della società secondo l'Istat in Italia un minore su due è vittima di episodi di bullismo puoi darci qualche informazione più su questo fenomeno e dirci chi colpisce particolarmente il bullismo è una aggressione o molestia perpetrata da parte di un singolo di un gruppo nei confronti di una o più vittime è volta a causare paura isolamento fino all'istigazione al suicidio normalmente avviene di fronte a testimoni e l'offesa di solito ha come oggetto l'aspetto fisico la lingua la razza la religione o l'orientamento sessuale della vittima la fascia di età più colpita è quella che va dagli 11 ai 17 anni al giorno d'oggi grazie alla diffusione dei social network e dei mezzi informatici il bullismo sta assumendo una nuova forma che è quella del cyberbullismo perché l'Uni ha sentito l'esigenza di intervenire su un tema così delicato il tema è molto sentito tant'è che qui in Piemonte è stata varata una legge regionale quella del 2 febbraio 2018 sul bullismo Uni ha risposto alla sollecitazione di soggetti che da tempo si occupavano di bullismo penso al Moige il Movimento Italiano Genitori e Fidae la Federazione Scuole Cattoliche Primarie e Secondarie i quali hanno ritenuto necessario stilare un documento al fine di individuare i rischi connessi al bullismo e ottenere così dei mezzi efficaci per prevenirlo e contrastarlo che cosa dice quindi la prassi di riferimento la prassi di riferimento di fatto da un sistema di gestione e una struttura organizzativa per le scuole e le altre strutture che ospitano utenti minorenni in modo tale che abbiano degli strumenti efficaci per affrontare il bullismo per esempio la scuola può adottare una politica antibullismo che deve essere pubblicizzata sulla home page del proprio sito inoltre può individuare un referente antibullismo predisporre un piano antibullismo un piano di vigilanza un piano di formazione ma anche altri strumenti efficaci che possano in qualche modo affrontare prevenire e ridurre il fenomeno quindi questo documento è pensato solo per le scuole il documento è pensato per le scuole ma anche per tutte le altre strutture che ospitano utenti minorenni ad esempio convitti centri ricreativi centri sportivi centri di formazione i beneficiari principali saranno i ragazzi i quali saranno informati e potranno chiedere ricevere aiuto in tempi brevi bene ricordo che tutte le novità sull'attività dell'Uni sono disponibili sul nostro sito internet www.uni.com dal quale è anche possibile collegandosi al catalogo online scaricare gratuitamente le prassi di riferimento ringrazio Doriana Cozza e saluto i telespettatori saluti il porsi domande sulla morte ci porta a confrontarci con le domande che riguardano direttamente la nostra vita come per esempio perché siamo sulla terra qual è il senso della nostra vita perché esistono sofferenze malattie perché avvengono catastrofi se Dio l'Eterno è amore e se esiste una vita nell'aldilà come continuerà e cos'è veramente la vita ognuno di noi ha il libero arbitrio con il quale abbiamo sempre la possibilità di deciderci per il bene o il male in ogni azione quotidiana e quindi ognuno di noi è completamente libero ma anche responsabile per ogni parola pensiero e azione che compie nella propria vita e ora ci troviamo sulla terra proprio per riconoscere i nostri difetti ed errori per cambiare in positivo i nostri sentimenti i nostri pensieri il nostro comportamento nei confronti del prossimo orientandoci sempre più sugli insegnamenti che troviamo nei dieci comandamenti e nel discorso della montagna se ci chiediamo come continuerà la nostra vita nell'aldilà dovremo osservare la nostra vita qui sulla terra infatti quando sarà arrivato il momento in cui la nostra anima si staccherà dal suo corpo fisico essa continuerà a vivere nei mondi di sostanza più sottile in base a come abbiamo vissuto sulla terra con i nostri sentimenti con i nostri pensieri con il nostro comportamento determiniamo giorno per giorno come sarà la nostra vita nell'aldilà se la nostra anima si sarà liberata dai legami che la trattengono sulla terra e potrà continuare la sua evoluzione verso mondi di sostanza più fine fino a fare ritorno nella patria eterna oppure se dovrà raccogliere quello che ha seminato nei mondi dell'aldilà o facendo ritorno sulla terra in una prossima incarnazione dogmi sacramenti come l'estrema unzione pratiche religiose esteriori o la sola fede non possono rendere la nostra anima più luminosa e la nostra coscienza più evoluta se non lavoriamo su noi stessi non diventeremo persone migliori e non purificheremo la nostra anima su questo tema desideriamo ora citare alcune frasi dal libro i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli rivelato tramite Gabriele nel libro il Cristo rivela vi sento continuamente parlare della morte che cos'è per voi la morte per molti è la fine eppure la morte non è altro che il passaggio a un'altra forma di esistenza nella quale voi vivete nello stesso modo in cui avete vissuto come uomini la morte non vi toglierà nulla e tanto meno vi darà qualcosa l'anima che abbandona il corpo è la stessa che era nell'uomo e che rispecchiava l'uomo dai Vangeli conosciamo anche il principio che dice quello che semini lo raccoglierai un principio dal quale l'uomo non si può sottrarre e che indica che in questa vita o nella prossima dovrà scontare ciò che ha fatto agli altri compresa la natura e gli animali a meno che non si riconosca in tempo e cambi se stesso e ponga rimedio nella misura in cui gli è possibile farlo per non dover subire tutte le cause che ha provocato la legge di causa ed effetto è strettamente collegata con la reincarnazione dell'anima quindi con la possibilità che un'anima faccia ritorno sulla terra in un nuovo corpo per continuare la sua evoluzione e per porre rimedio agli errori commessi nelle sue esistenze precedenti conoscere la realtà della reincarnazione ci libera dall'immagine del Dio crudele che condanna e ci aiuta a considerare sotto una nuova luce la nostra vita sulla terra che è allora una possibilità che ci viene data per seguire la nostra evoluzione interiore per poter un giorno fare ritorno alla nostra vera origine alla casa del Padre nella luce eterna dove tutti ritorneremo invitiamo quindi chiunque sia interessato a questo messaggio a informarsi ulteriormente e consultare il sito internet www.vita-universale.org I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale Buona visione Buona visione Buona visione Buona visione